Ciao ragazzi, oggi voglio provare insieme a voi questo nuovo gioco che ho scaricato, si chiama ASMR Simulator e vediamo un po' se farà questo effetto rilassante come gli ASMR oppure se aumenterà il nostro stress Iniziamo con questo secchio della spazzatura da ripulire Oh oh, ma c'è un cagnolino qua! No amore, ma chi ti ha buttato nella spazzatura? Oh poverino, possiamo adottarlo? Oppure lo possiamo mandare al canile, no? Io direi di adottarlo anche se ci obbliga a guardare un video se lo adottiamo Ok, adesso ti ripuliamo, iniziamo a togliere questi accumuli di pelo, guarda come si sono incrostati Ecco fatto, oh dai, resisti, resisti che abbiamo quasi finito Ok, abbiamo già tolto questa parte tutta annodata Allora, cosa possiamo fare noi che siamo poveri e non abbiamo voglia di guardarci le pubblicità? Possiamo usare questo strumento che lo pettina un pochino, vai, spazzoliamolo Non abbiamo risolto nulla Ah, wow, guardate quanto pelo abbiamo tolto Ma perché glielo ho tolto solo dalla testa? Volevo toglierlo anche dal corpo Oh, oh, no, no, ti prego, le zecche, no, le zecche, no Oh, che schifo Togliamole, beh, poverino che tra l'altro sono pericolosissime Tagliamo via questi peli in eccesso che altrimenti non lo fanno neanche sentire bene Povero cucciolo, chi ti ha ridotto in questo modo? Adesso mettiamo anche queste goccine che puliscono le orecchie dall'interno Massaggiamo bene Ok, e adesso passiamo le garzine per asciugare Oh, guarda che schifo Puliamo, puliamo Mamma mia, questo orecchio era ridotto proprio male E non è finita, adesso passiamo anche questa specie di cotton fioc per pulire l'interno E adesso dovremo fare l'altra, immagino No, l'altra ce la immaginiamo Gli abbiamo buttato una bella secchiata d'acqua in testa e andiamo avanti Adesso mettiamo lo shampoo su questa spugna Ma guardate che realistico Oh, devo dire che non è fatto male questo gioco Effettivamente è rilassante perché è realizzato bene Stiamo attenti agli occhi, cerchiamo di evitarli Beh, metti dentro la lingua però Niente, mi deve far passare anche sugli occhi altrimenti non è contento Allora, beh, possiamo spendere delle stelle per poterlo spazzolare Vediamo se possiamo permetterci questa Sì, ok, vai, grattiamo via bene il cuoio capelluto E togliamo tutta la schiumetta del sapone Ecco fatto E adesso lo asciughiamo Ah, scommetto che ti senti meglio piccoletto, eh E quelli che volevano che ti rispedissi al canile Ma dove l'abbiamo messo? Nel microonde, ma cos'è? Ah, è un asciugacani Non sapevo esistessero queste cose Ah, guardate quanto è carino questo barboncino Adesso una rasatina perché sapete che i barboncini non perdono il pelo? Perciò bisogna tagliarglielo E una sforbiciatina per rifinire bene il tutto Ah, sentite, sentite che bello Ok, il corpo è fatto Adesso le orecchie Ricordiamoci che ha ancora un orecchio tutto pieno di zecche e sporco No, dai, non è vero È solo che non ce l'ha fatto fare due volte Perché altrimenti era ripetitivo Non riesco ad arrivare alle zampine Però, vabbè, dai, accontentiamoci Oh, adesso lo dobbiamo vestire scegliendo queste cose imbarazzanti Io mi limiterei a un papillon se possibile Eccolo qua, una bella foto Guardate un po' il risultato Prima e dopo Che soddisfazione, ragazzi Ok, e adesso possiamo o abbandonarlo di nuovo Oppure adottarlo Ma per adottarlo, ovviamente, dobbiamo guardare un video Ed ecco qua, l'abbiamo adottato E adesso è a casa nostra Ma questa è la nostra casa Mamma mia, ragazzi Ma è messa proprio male, eh Vediamo un po', spendiamo qualche soldino E rifacciamo il pavimento Dopodiché possiamo mettere anche un nuovo muro Ovviamente guardandoci sempre i soliti video Oppure acquistare una bella poltrona Oh, dai, adesso il nostro cagnolino almeno sta comodo Ma niente, oh, vuole per forza farci guardare i video questo gioco Ma basta, io voglio pagare con i soldi che ho guadagnato Perché devo per forza guardare queste pubblicità Oh, finalmente, adesso posso mettere anche il muro Con gli ultimi risparmi Metto anche questa bella libreria Ecco fatto Adesso la casa è molto più accogliente Mi piace molto di più E posso continuare Ok, che cosa succede? Chi è questa? È una di un'altra pubblicità Di una cosa schifosa Bleh Ma che è? Ma che cos'è sta roba? Ma è perfect cosa? Ma è perfect cosa? Non è perfect per niente Scusate, ma questa sarebbe la prossima cliente Io speravo fosse una pubblicità da schippare Invece no Devo proprio occuparmi di lei Ma sembra una mercoledì Adams A cui è successo qualcosa di terribile Mamma mia, no Io non ce la faccio a vederla così Dobbiamo assolutamente darle una ripulita Una... Curarle quella roba che esce dalla faccia Ma cos'è? Che schifo Ma... Ma... Massaggiamo Ma perché non mi sono messa almeno i guanti? Ok, sciacquiamo Forza, forza Poi più che se mi guarda anche così con sta faccia Cioè, scusa Io ti sto toccando Questa roba che tu hai addosso Ti sto pulendo Ti sto facendo lo shampoo E tutto E tu mi guardi pure male Come... Se mi volessi uccidere Ma stai calma, eh Stai calma Togliamo ste cose schifose Queste sanguisughe Ma sei finita in una palude Ecco Adesso mettiamo questa cremina Ma io le avrei almeno prima lavato la faccia, no? I capelli sì La faccia viene di sangue no Ah, ma questa credo che sia una cremina struccante O comunque desanguinante Ma ha ancora queste cicatrici, poverina Sulla faccia Su cui erano quelle sanguisughe Asciughiamo bene Ecco Mettiamo un po' di crema cicatrizzante Vediamo se funziona Wow Funziona benissimo Ah, però c'ha pure un bel taglio qui Allora lo dobbiamo ricucire Stai buona Ecco fatto Ah Vabbè Le è rimasta più la cicatrice Della cucitura che ho fatto io Che quella di quei parassiti enormi Che aveva sulle guance Perché non le mette anche qui quella cremina? Vabbè no Qua mettiamo un semplice cerotto Che però si vede che era imbevuto di quella cremina Perché ha cancellato completamente la cicatrice Comunque ragazzi Voi non lo state vedendo Perché io le taglio tutte quelle parti Ma questo gioco è tappezzato di pubblicità Perciò non scaricatelo Perché è impossibile giocarci Ok Adesso possiamo applicarle un bel make up Ok Dai Adesso non resta altro che toglierle Questo vestito tutto rotto Mettiamole Vediamo un po' Questo Che costa poco Però è anche carino Ok Pronta per la foto Certo sempre questa faccia Però vabbè Non ti dico smile E guardiamo un po' La differenza Prima Mamma mia Oddio non lo posso vedere E dopo Ok Direi un gran bel passo avanti Beh Questa non ce la portiamo a casa Insieme al cagnolino Però l'abbiamo lasciata in mezzo alla strada E vabbè Questo gioco è fatto molto bene Ha una bella grafica Dà la soddisfazione di vedere il cambiamento Nei nostri soggetti Però è veramente Stramega tappezzato di pubblicità Io le ho tagliate Quindi voi non le avete viste Ma dopo ogni azione Partiva un video Quindi io non vi consiglio di scaricarlo Perché è veramente frustrante Quindi guardatevi i video Di la gente che ci gioca È più divertente che giocarci realmente Questa comunque dovrebbe essere La nostra prossima cliente E per il momento la lasciamo qui a piangere Io per oggi vi saluto Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco E ci vediamo al prossimo video Ciao